La Fire, che so ste storie del Carcio? E non sentite tante di storie qui, troppe, cose assurde che mi hanno colpito e molte avvenute proprio sul Carcio nelle sue vetrovie. Sentite alcune? Si dice che dei soldati, che siano stati beccati mentre rubavano, siano stati fucilati sul posto senza neanche un processo. Processo? E chi fa il processo? Guarda, è una cosa triste. Quando mi sono errolato credevo che il nemico fosse davanti a noi, al di là delle Alpi Giulia. Invece ce l'abbiamo in casa. Come quel povero soldato mi ha mancato di rispetto al proprio superiore. La paura, la tensione. E questo l'ha preso, l'ha portato in un boschetto e quando è tornato da solo ha detto che il soldato si era sparato in bocca con la pistola d'ordinanza per l'aver gomma. L'aveva giustiziato, capisci? La guerra è miseria, ma ci sono delle tristi regole che vanno rispettate e seguiti. La coscienza. La coscienza è un'altra cosa. La coscienza è un'altra cosa. Grazie.